Ragazzi, mi sono finalmente deciso a farlo. Negli ultimi 5 giorni mi sono messo alla prova perché ho deciso che finalmente era arrivato il momento di migliorare la mia plettrata alternata. È una tecnica che ho sempre utilizzato decentemente ma non è mai stata il mio cavallo di battaglia. Ecco, dove potevo evitare di usarla, evitavo. Parlo di cose ovviamente molto veloci e complicate. Un po' perché lo shred in generale non è mai stato il mio genere principale e un po' anche perché effettivamente è un esercizio difficile. Sentivo la necessità quindi di approfondire l'argomento plettrata alternata e mi sono buttato a capofitto in una full immersion di 5 giorni che ho documentato in questo video. Contanto ovviamente di risultati finali. Prima di cominciare a farvi vedere quello che ho fatto o spiegarvi qual è stato il mio percorso devo fare una premessa obbligatoria. E la devo fare a tutti quelli che pensano che la velocità sulla chitarra sia inutile che sia soltanto uno sfoggio di abilità e che meglio poche note ma col cuore. Lo studio della plettrata alternata, della velocità e della tecnica prescinde completamente lo sfoggio di una semplice abilità. La musica non è una gara, nessuno ha mai detto questo ma padroneggiare l'alternata, essere veloci, essere capaci, avere un buon suono anche in situazioni dove c'è bisogno di correre sono tutte cose che vanno studiate, approfondite a prescindere dal genere che suonate. Se siete bluesman da due note al secondo dovete comunque studiare la tecnica il discorso di suonare poche note ma col cuore è soltanto per tanti una scusa per non studiare. Io stesso mi definisco tutt'altro che uno shredder da 300 bpm e cose così però la tecnica va studiata e quando la padroneggiate avete un controllo che poi vi fa suonare ovviamente anche meglio quando andate piano. Andiamo al percorso che ho intrapreso e cosa ho fatto per essere qui oggi un chitarrista migliore di 5 giorni fa. Il buon amico David di Chitarra Facile ha prodotto un corso sulla plettrata alternata avvelendosi del supporto di tre chitarristi italiani con la plettrata fotonica Vanitonon, Andy Martongelli e Valentino Francavilla David mi ha fornito in anticipo questo corso e durante una lezione, un video di Valentino Francavilla a un certo punto lui suona un lick alla Malmsteen che io ho riconosciuto subito Ad esempio E l'ho riconosciuto subito perché è uno di quelli che mi è sempre venuto una cagata Ho detto quindi basta, adesso mi butto a capofitto su questo leak, sulla plettrata alternata e con tutti i consigli, suggerimenti e tutto quello che sto studiando in questo corso Mi metto 5 giorni consecutivi, mi registro e tutto il resto e vediamo che cosa riesco a fare Tra parentesi qua sotto in descrizione trovate il link ad alcune di queste lezioni che ho visto io completamente gratuite Così che vi possiate cominciare a fare un'idea di quello che ho studiato io e di quello che ho visto per poter portare avanti appunto questo percorso e migliorare con l'alternata Almeno spero di essere migliorato ma credo di sì Il mio obiettivo è stato quello di studiare questo lick alla Malmsteen per 5 giorni consecutivi senza mai prendermi una pausa e soprattutto cercando di dare il 100% ogni volta studiando anche diverse ore consecutive al giorno Riportiamo indietro gli orologi e vediamo come ho cominciato partendo dal giorno 1 Sono le 4 e mezza di domenica Ho appena finito di mangiare e mi andrei a distruggere sul divano ma no, dobbiamo migliorare la plettrata alternata Visto che oggi è il primissimo giorno dobbiamo decidere tre cose fondamentali La prima è il tipo di plettro che deciderò di utilizzare se è il classico Tortex verde 0.88 che uso da una vita neanche sulla misura oppure se è il Tortex viola è un po' sbiadito ma dovrebbe essere quello da 1.14 È un bel po' di tempo che utilizzo questi due tipi di plettri soprattutto il verde ma mi sono reso conto ultimamente che con il viola con quello un po' più spesso Per questo genere di musica cioè per la parte un po' più shred la plettrata alternata e così via onestamente trovo più comodo il plettro duro La seconda cosa che devo scegliere è ovviamente la chitarra e dato che per il momento la sto utilizzando spesso e mi trovo molto bene con manico ed action utilizzeremo la mia Les Paul Standard dell'88 che è settata con l'action raso terra praticamente la Les Paul è una chitarra a scala corta ha il manico piccolo quindi non è il tipico manicone delle Les Paul che potrebbe risultare scomodo in questa situazione la terza cosa infine che dovrò scegliere sarà il metronomo di partenza come suggerisce Vanito Nonno nel corso sceglierò una velocità di partenza e proverò su quella come un pazzo soltanto quando avrò veramente interiorizzato quella velocità e quindi saprò farla veramente ad occhi chiusi allora passerò a una velocità successiva e non alzando magari soltanto di un BPM o di due ma faremo salti penso proprio di 5 BPM non utilizzerò un suono super distorto con delay e riverberi a cannone perché ovviamente sarebbe un po' come barare proviamo a partire con 100 BPM si sono fatte le 6 quindi è da un'ora e mezza che sto ripetendo senza praticamente tregua questo esercizio noto che se faccio delle piccolissime pause cioè non delle vere e proprie pause ma magari mi sono alzato poco fa per andare a bere un bicchiere d'acqua sono tornato per i 5 minuti successivi alla pausa che ho fatto sono andato molto bene per poi cominciare a praticamente entrare in un loop di negatività dove mancavo sempre qualche nota e ripartivo sempre velocemente risbagliando quindi a un certo punto noto che se prendo delle piccolissime pause proprio dei pochi secondi tra un tentativo e l'altro e riesco a performare meglio ho notato anche che nel corso dei tentativi che ho fatto ho cominciato a mollare un po' il pletto cioè la presa prima era molto più salda il che creava ovviamente molto più attrito e resistenza da parte della corda e poi ho cominciato proprio a mollarlo a tenerlo quasi per non farlo cadere e sento che il movimento della mano destra è molto più fluido anche se perdo in attacco e in volume quindi c'è questa specie di trade off di scambio dove guadagno in velocità e in fluidità tenendo il plettro molto morbido tra le dita però perdo ovviamente in volume e attacco incisività del leak quindi questo è una cosa su cui devo lavorare soprattutto insieme anche al movimento del mignolo che secondo me ancora non è perfetto prima di andare a letto riproverò per un'altra mezz'ora questo per cercare di favorire la memoria muscolare quello che mi succede spessissimo e si parla anche di questo nel corso che ho visto è che quando si prova tanto qualcosa di difficile e poi si smette di provare l'indomani per qualche motivo il cervello ha assimilato il movimento e nella nostra memoria muscolare è praticamente ormai inciso questo movimento qua e ci viene molto più semplice vediamo come va al momento sono fracassato oggi non potrò suonare prima delle 22 quindi sono in pausa pranzo e ripasso un po' di lezioni del corso con il buon Marto Angelli nel frattempo spero che il mio cervello lavori per me e assimili il movimento che abbiamo studiato ieri ok finalmente ci siamo sono le 21.18 del secondo giorno e attualmente oggi ancora non ho toccato la chitarra zero completamente prima di iniziare ho deciso di apportare una modifica importante al modo in cui svolgerò l'esercizio questa cosa è dovuta al fatto che ho rivisto i video che ho girato ieri quindi l'esercizio che ho fatto ieri e anche all'idea che mi ha dato Marto Angelli nella parte del corso che stavo guardando oggi a pranzo avevamo detto che avrei utilizzato la Les Paul per il modo naturale in cui la Les Paul si poggia sulla gamba destra ci costringe a tenere la mano destra con cui plettriamo molto arretrata proprio per il modo in cui è costruita riguardando i video mi sono accorto di tenere in tensione proprio il braccio destro per tenerlo nella posizione giusta per plettrare e questa cosa magari indirettamente, inconsciamente mi ha stancato e quindi magari avrei potuto fare di meglio o suonare per più tempo ma quella posizione mi stava stancando infatti alla fine di ieri ero proprio esausto cioè le mani, il braccio sentivo di essere stanco come suggerisce Marto Angelli nel corso quindi utilizzeremo un poggiapiede e posizioneremo la chitarra come si fa nella posizione, nella impostazione classica terrò il corpo della chitarra al centro tra le due gambe col piede sinistro rialzato e il corpo che poggia sulla gamba sinistra e non sulla destra in questo modo sto anche più dritto con la schiena e riesco a plettrare per più tempo con una posizione del braccio e delle mani molto più comoda un altro approccio che proverò e che suggerisce Marto Angelli è che inizierò l'esercizio su un BPM molto più alto e poi lo imposterò indietro invece al mio BPM obiettivo a quello che era il mio obiettivo di oggi il concetto è che le mani si abituano ad inseguire, tra virgolette, il metronomo più veloce e quando lo andiamo ad impostare invece alla nostra velocità standard cioè la nostra velocità obiettivo teoricamente tutto dovrebbe essere molto più semplice ci sembrerà di andare su un metronomo talmente lento che ci verrà comodo almeno questa è la teoria devo dire che dopo tutta un'intera giornata cominciare a studiare alle 9 e mezza non è proprio il massimo della vita ma dobbiamo raggiungere un obiettivo andiamo direttamente a 155 e vediamo che cosa succede per poi scendere a 145 dopo aver fatto una bella sessione su questo BPM a questa velocità la percentuale di errori per take e salita non sono più precisissimo come sono ovviamente a 120 BPM ma soprattutto mi sto accorgendo che mi stanca non si tratta di postura perché mi sento piuttosto rilassato con le mani e le braccia però sono a 155 BPM da 40 minuti senza pausa e devo dire che comincio un po' ad accusarli anzi fa anche caldo non posso assolutamente reggere questa velocità per un'ora e mezza consecutiva come con i 120 BPM non può essere e adesso che ho posato la chitarra sento anche un po' rigidino il muscolo dell'avambraccio a questo punto da 155 scendiamo a 140-145 forse 145 e tiriamo per almeno altri 40 minuti vediamo come va vediamo se lo reggo dovrei reggerlo molto meglio e soprattutto dovrebbe risultarmi molto più semplice essendo che vengo da 40 minuti a 155 BPM ci dobbiamo fermare stavo per finire la prima mezz'ora a 180 BPM per poi scendere a 165 ero preso bene perché stavo ingranando bene sui 180 BPM quando ho cominciato a sentire un dolore al polso sinistro come avete visto e mi voglio fermare non voglio stressarmi oltre non vorrei compromettere i giorni successivi non ho mai veramente approfondito la plettrata alternata così a modi tour de force quindi ci può stare che magari non sia molto predisposto alla cosa e mi ci devo abituare il terzo giorno quindi finisce così mi riprendo sto a riposo con la mano sinistra non suono più per oggi e vediamo domani come va giorno 4 il riposo forzato di ieri mi ha aiutato perché oggi non ho completamente più il fastidio al polso comunque al braccio sinistro credo che abbia anche aiutato a riposarsi per dare una sorta di reset al cervello tant'è che già qualche minuto che suono e i 180 BPM mi risultano abbastanza comodi sono riuscito anche a dosare la forza con cui tenere il plettro per cercare di trovare un compromesso tra fluidità del movimento della mano destra e comunque potenza e attacco sulle note sono stato sui 200 BPM giusto due minuti così per prova e probabilmente non riuscirò a raggiungerli non credo che comunque sia un problema perché già 185-190 BPM sono veramente molto veloci c'è già una velocità consistente ed essendo che comunque questo esercizio poi lo devo applicare in musica e non è una gara a fine a se stessa e non mi interessa arrivare a 300-400 BPM 200 quelli che è l'importante è che io padroneggi bene la tecnica e che poi io sia in grado di utilizzarla nelle improvvisazioni nei soli insomma in quello che voglio anche perché sento che la plettrata alternata mi è migliorata a 360 gradi non solo nell'esercizio che stavo provando ma anche in tutti quei pattern su cui già magari ero abbastanza ferrato adesso sono migliorati quindi domani cercherò di registrare direttamente qualcosa utilizzando la nuova tecnica per vedere anche effettivamente quanto ne ho giovato in termini pratici e non soltanto stando dietro il metronomo ricordiamoci che l'importante non è l'esercizio ma può effettivamente suonare e non è l'esercizio e non è l'esercizio e siamo finalmente arrivati al giorno 5 e mi sento di poter dire senza sembrarvi egocentrico che effettivamente sono migliorato durante il percorso ho notato comunque dei pro e dei contro interessanti riguardo tutto questo esperimento sono migliorato nel breve periodo perché alla fine 5 giorni non sono così tanti considerando che partivo veramente abbastanza scarso e sono riuscito che secondo me la cosa più importante ad applicare la tecnica che ho appreso alla musica suonata cioè non soltanto all'esercizio fino a se stesso ma in contesto di una solo riesco ad applicare la tecnica per quanto riguarda i contro invece devo dire che questo genere di allenamento così estenuante e consecutivo non lo reggo bene non sono sicuro di consigliarvelo probabilmente sarebbe meglio nel corso della giornata spezzettare gli esercizi e non fare come ho fatto io tutto concentrato in un unico momento del giorno ma non ho più 16 anni con 12 ore di libertà al giorno quindi ero costretto a fare così per un momento ho pensato di essermi infortunato al polso della mano sinistra il che sarebbe stato effettivamente un grossissimo problema le lezioni del corso mi sono state di estremo aiuto soprattutto quella di Martongelli sulla postura perché quando ho cambiato la Les Paul da questa posizione a questa è cambiato tutto mi sentivo decisamente più in controllo con una plettrata più ferma, più sicura, più veloce e anche più comoda e vi ricordo che qua sotto in descrizione appunto c'è il link per usufruire di alcune di queste lezioni completamente gratuitamente quindi vi consiglio di farlo mi piacerebbe rifare una cosa del genere magari con un'altra tecnica ma se potessi spezzettare l'esercizio durante il giorno invece di concentrarlo sarebbe sicuramente meglio e ovviamente vi lancio la sfida e vi invito a provare una cosa del genere o proprio questo stesso esercizio che ho fatto io per vedere quanto riuscite a migliorare rimanendo costanti e dedicati in 5 giorni consecutivi ragazzi questo è tutto per questo video io vi invito a iscrivervi al canale se questo genere di contenuti vi piace e a seguirmi su Instagram c'è il link in descrizione e noi ci vediamo sabato prossimo in un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti